Sulla nostra regione è in atto un afflusso di aria molto calda di natura africana che sta determinando un consistente aumento delle temperature, le quali nelle prossime 24 ore si attesteranno su valori praticamente estivi, ma si tratterà di una condizione temporanea poiché non avremo l'invasione dell'anticiclone africano sulla nostra penisola, bensì il richiamo caldo è stimolato dall'affondo di una depressione in sede iberica, depressione che sta influenzando in modo marcato il centro nord dell'Italia dove si registrano abbondanti precipitazioni. Il fronte perturbato che si accompagna alla circolazione depressionaria interesserà marginalmente anche la nostra regione nella giornata di sabato, ma ecco in dettaglio il tempo previsto per questo fine settimana. Domani, sabato, primo maggio, cielo molto nuvoloso ovunque con associate precipitazioni più probabili sul settore settentrionale della regione, precipitazioni che potrebbero assumere anche carattere di temporale, temperature in diminuzione dal pomeriggio, venti inizialmente da scirocco tenderanno a disporsi da ovest con intensità moderata. Mare da poco mosso a mosso. Domenica, 2 maggio, condizioni di cielo irregolarmente nuvoloso ovunque, con residui piovaschi nella prima parte della giornata, segnatamente nelle aree a ridosso dei rilievi. Maggiori schiarite invece lungo la costa, soprattutto dal pomeriggio. Temperature in ulteriore lieve diminuzione, con valori che si porteranno in linea con la media del periodo. Venti deboli occidentali con locali rinforzi, mare tra poco mosso e mosso. Nei primi giorni della prossima settimana sarà probabile l'espansione di un cuneo dell'anticiclone delle Azzorre verso il Mediterraneo, ma che non riuscirà a proteggere completamente la nostra regione. Pertanto ci attendiamo condizioni di variabilità con possibili precipitazioni sparse, segnatamente nelle giornate di mercoledì 5 e giovedì 6 maggio. Le temperature si manterranno in linea o qualche grado al di sotto della media del periodo, ma per maggiori dettagli invito come sempre i telespettatori a consultare i prossimi aggiornamenti che verranno pubblicati sul sito www.meteogiuliacci.it e sul gruppo Facebook Meteo Cilento. Termino qui un buon fine settimana da Giuseppe Stabile. Grazie a tutti.